Mi chiamo Vincenzo Del Bello, studio lettere moderni a Luda e voglio raccontarvi una storia. Era il dicembre del 2019, frequentavo il laboratorio teatrale dell'università e ci stavamo occupando di alcune novelle di Roberto Bracco, un drammaturgo che era stato oggetto di studio da parte della professoressa Di Nallo e del quale avrebbe dovuto parlare in un'intervista per la RAI di lì a qualche giorno. Io e la mia collega Patrizia pensavamo di dover semplicemente portare in scena, sul palco, qualche novella dell'autore. Ed effettivamente fu così. Però non eravamo soli. Ma mi spiego meglio. Di lì a poco la professoressa ci chiamò presso il suo studio. Ci saremmo aspettati di tutto, ma certo non di diventare delle star del piccolo schermo. Va bene, sto esagerando, mi ridimensiono. La professoressa ci disse che aveva chiesto alla troupe di riprenderci mentre recitavamo una delle novelle più divertenti di Bracco, cioè Il Confessore in Imbarazzo. E la troupe accettò. Certo, specificarono che non era assolutamente sicura la nostra messa in onda, che i tempi televisivi sono tiranni e che molto probabilmente in fase di montaggio ci avrebbero tagliati. Però accettarono. Io e Patrizia eravamo felicissimi. Avevamo saputo che forse saremmo andati in televisione. Era un forse bello grosso. Ma a noi non importava. Avremmo dovuto tagliare una novella da 13 minuti a 2 minuti. Un incubo. E anche se a distanza di un anno, onestamente non saprei ben dire come, ci riuscimmo. Riuscimmo a tagliare la novella, a farla diventare di 2 minuti. La portammo in scena. Il 13 dicembre 2019 arrivò finalmente il giorno delle riprese. La troupe si divertì anche più di noi nel riprenderci. Ma rimaneva comunque quella spada di Damocle su di noi. Ovvero il montaggio. Ma la spada non ci toccò. E il 28 gennaio 2020 andammo in onda sul canale 54. Rai Storia. E sapete una cosa? Se andate su Rai Play e cercate Paolo Mieli, vi basterà cliccare sul programma Italiani. E dal minuto 31 al minuto 35, ovviamente dell'episodio dedicato a Roberto Bracco, ci troverete. Siamo ancora lì. Come ben saprete, un mesetto dopo, o poco più, finimmo tutti in clausura. Appunto come un monaco e una suora. Ma lo vedrete meglio. Il mondo venne messo sotto chiave. E erano tempi bui. Onestamente erano tempi bui. Non che adesso siano troppo radiosi, ma all'epoca era peggio. In quel momento il teatro ci aiutò a sentirci parte di una comunità, a sentirci ancora uniti, a sentire che il palco non era così distante da noi. E così, per gioco, ci divertimmo a recitare tutti e 13 minuti della novella, senza doverli più tagliare a due. E venne fuori una clip. Una clip molto divertente. Per lo meno da fare. Spero anche da vedere. E la troverete qui.